Ritom Gottardo Garzonera e quel disgraziato di mio figlio che si sta bagnando il toro papà sembra una ciotola di granita ecco qua tutte le scime è l'adula, si vede anche l'adula anche l'adula è in fondo di là adesso basta le lintine si riconosce dal ghiacciaio ecco qua e poi Alberto che sta scappando il capannat che ha scaldato tutto il rifugio e che ci ha accolto la grande